È un'emozione grande, non si può descrivere. Io sono ancora incredula, come lo era all'inizio, anche adesso. Comunque non vedo l'ora di riabbracciarlo. Io, cosa devo dire? Siamo contenti, credo che giustizia sia stata fatta, la verità è venuta fuori. Come sempre diceva mio figlio, alla lunga sicuramente la verità verrà fuori. Noi abbiamo ricevuto la telefonata, è stato un urlo di gioia. Io credo che dopo la nascita di mio figlio questa è stata la giornata più bella. Guarda, l'abbiamo immaginato tante volte questo momento e chiaramente è successo in un modo diverso da come l'abbiamo immaginato. Siamo in Italia, noi siamo sempre stati in India, siamo in Italia, però è un'emozione grandissima. E non vediamo l'ora di averlo qua a casa. Come si è giunto questo risultato? Si è giunti con un buon lavoro degli avvocati in Suprema Corte e direi con tanta professionalità da parte anche dei giudici indiani. La vicenda è una vicenda assurda che ha avuto degli esiti veramente incredibili. Io credo che gli unici magistrati sono quelli della Corte Suprema. I magistrati della Corte Bassa e dall'Alta Corte sicuramente hanno esaminato in modo errato la documentazione. Hanno condannato due ragazzi senza prove, senza indizi, solo su un pregiudizio. Credo che sia eccessivo condannare due persone all'ergastolo solo su un pregiudizio. Il prossimo passo? Il prossimo passo è l'arrivo di mio figlio a casa e poi vediamo. Aspettiamo che l'ambasciatore ci comunichi le modalità, se dobbiamo andare noi in India o se comunque verranno caricate su un aereo e mandate in Italia. Siamo super felici, non dobbiamo da dire altro, mi aspettiamo da cinque anni in questo momento. Oggi è festa, è Natale, è nato un figlio, qualunque cosa. Mi dispiace, grazie. Davvero. Non abbiamo più voli. Un tuo commento? Io sono contentissimo, altro da dire non ho. Da quanto tempo hai conosciuto un figlio? Da sempre, da sempre, guarda. Non so neanche cosa dire, non ho parole, non ne avevo prima, non ne ho ancora detto. Come so, ciò ti aspettiamo per questa benedetta birra. Io so che con Adriano sicuramente si metterà in macchina e verranno giù, spero. Anche a tutti.